Ciao a tutti da SPO 2.0, il 22 dicembre siamo al Pala Ruffini, mancano pochi giorni a Natale e infatti siamo proprio qui per la festa di Natale del Custorino, del Colbe, del Globo Grugliasco e di Jolly Vinovo. Una festa tra bambini, sport e basket. Ciao a Natale! Io da tanto, fin da piccolo che gioco qua, quindi non riuscirei a giocare con un'altra maglietta, mi piace. Senza Pala Canestro non piuverei. Il Custorino è una società comunque dove ci troviamo bene, siamo una bella compagnia anche, poi è una passione mia personale, quindi non riesco a staccarmene, però anche per loro che sono bellissimi e sono fantastici. Vedo sempre più bambini interessati, vedo tanti istruttori che si appassionano perché secondo me è anche importante il discorso degli istruttori, partire con un esordiente, c'è l'ultimo anno mini basket con 20 bambini sicuramente è propedeutico. Adesso stiamo cercando sempre di più di coinvolgere i bambini nelle nostre attività, direi che sta andando bene perché la risposta c'è stata e speriamo che la cosa continui. I bambini si divertono tantissimo, si vede che è un ambiente pulito e sano. È fantastico per il fatto che si vive lo sport insieme e lo sport unisce anche le famiglie. Buon Natale da parte del Custorino Basketball. Buon Natale!